Sto cercando di gonfiare una ruota Con un ottimo successo? No, con una pompa che ha la valvola piccola Sei la proprietaria della bici e quindi si è rimasta a piedi con la ruota sgonfia Qua è rivestita, sicuramente il telaio Ma tu guarda qua come l'hanno arrotolando Ce l'hanno perso almeno 3-4 giorni No, non sono pane Che cosa significa? Che ne pensi dell'uffa in culo? Sembra interessante, il problema è capire il significato La condizione è fra uffa e l'uffa in culo Ah, uffa, bello, mi piace come idea Interessante Vediamo dove andremo oggi durante questo giro Se andiamo a uffa in culo magari No, no, no Mix it right 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 C'è Monica Si vuole ritrere E il capetto si lega di dietro E c'è qualcuno che vuole rubare la scena Dipendi il tuo trono, dipendi la tua corona C'è il capetto se non ti chiede L'acqua C'è il capetto E' una min madre E' una min madre Dai a me Taccetta Non è molto male Non è un mese L'acqua Non è molto male Ma non è un mese Che è un mese E' una min madre Mese E' una min madre In un mese E' una min madre L'acqua Sì Il motivo per cui ho conosciuto la bicicletta sono i mega raduni giornalieri che si fanno soprattutto il marabello, tipo quello di questa sera, in realtà non me ne fregava niente la bicicletta, quello che volevo era partecipare ai raduni del martedì, questi mega raduni elettrizzanti, tipo quello di stasera, eccezionale, sai come ti chiama quello di potera? Ruote libere Well, that's the story